E oggi, nel Santissimo nome di Maria, Madre Chiesa, Nuova Gerusalemme, invoco la copiosa e abbondante benedizione di Dio Padre Onnipotente. Su tutti voi, i nuovi cristiani, che avete scelto di appartenere a questa Chiesa, voluta dal Padre per rifondare la cristianità. Su tutti voi, che amate Cristo e Maria più della vostra stessa vita e siete alla ricerca della loro viva presenza in questi tempi, duri e difficili. Su tutti voi, che animati dalla buona volontà, siete alla ricerca della verità, per essere liberati da ogni schiavitù. Dio Padre Onnipotente, benedica la Sua Chiesa, doni a voi, Suoi figli, ogni grazia corporale e spirituale, ed esaudisca oggi ogni preghiera conforme alla Sua volontà, affinché oggi Cristo vinca e ogni suo nemico fugga, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén.